Gli ultraottantenni residenti nel comune di Teramo che già hanno ottenuto la prima dose saranno sottoposti dal 23 al 26 marzo al richiamo vaccinale nell'ambito del piano anti-covid. L'ASL di Teramo ha comunicato al sindaco d'Alberto le date per l'organizzazione del richiamo vaccinale che nella città capoluogo interesserà 3.122 utenti. Confermate le quattro location individuate per la prima somministrazione. Insieme alla ASL ci hanno comunicato le date e abbiamo già messo in moto la macchina organizzativa per chiamare gli ultraottantenni che saranno chiamati nelle stesse identiche postazioni dove hanno fatto il primo ciclo del vaccino. I giorni saranno, sarà un giorno in meno perché nelle prime due giornate aumenteremo il numero delle persone da vaccinare. Quindi i siti rimangono gli stessi, il Palace Capriano, l'Ipogeo, la Scuola dei Geometri e il Palazzetto dello Sport di San Nicolò. Anziché finire alle 5, le 17 pomeriggio si concluderanno le operazioni di vaccinazione alle 18 della sera. Per cui andiamo ad integrare e quindi ci sarà meno affluenza, meno possibilità di creare delle aggregazioni nella consapevolezza che all'inizio qualche piccola difficoltà ci sarà sempre. Siamo qui a disposizione della ASL nel caso ne avesse bisogno per organizzare insieme a loro le attività future. Siamo a totale disposizione, vaccinarsi significa salvare la vita umana e quindi prima ci vacciniamo meglio è.